Una sanità che i cittadini descrivono come disastrosa quella del Viterbese. Lì si è d'attesa infinita nel pubblico, problemi nel privato convenzionato come quelli relativi a Villa Buon Respiro, una delle 13 strutture del gruppo San Raffaele che per i noti problemi relativi ai mancati pagamenti delle prestazioni da parte della Regione Lazio ha rischiato la chiusura. Per questo motivo e per chiarire alcuni aspetti abbiamo deciso di incontrare il commissario straordinario della AS di Viterbo, nonché il direttore generale dell'Ares 118 Antonio De Santis. Lei è arrivato qui da poco quindi ancora sicuramente si sta facendo un'idea dei problemi che sono relativi all'AS di Viterbo. Però se dovesse dare un giudizio ad oggi qual è la situazione che ha trovato e quali punti su cui intervenire immediatamente? La situazione che ho trovato è una situazione direi abbastanza tranquilla. I problemi sono quelli attuali un po' di tutte le aziende sanitarie e quindi problemi di contenimento della spesa e di trovare punti di equilibrio tra quello che possiamo erogare ma come erogarlo coerentemente col piano di rientro e con i limiti di spesa. È un'azienda che mi sembra 4.000 dipendenti, è un'azienda grossa e con delle strutture ospedaliere che vanno soprattutto quella di Belcolle che è una bella struttura ospedaliera che in attesa che venga completata e pare che adesso i lavori si stiano riavviando io direi che ci sono delle potenzialità assolutamente per rendere il tutto in modo assolutamente funzionale alle necessità del territorio e per poter dare un ottimo livello di prestazioni sanitarie. Sono stati imposti dei tagli molto pesanti sulle ASL, tagli del 15% che vanno ad incidere ancora maggiormente sui già gravi bilanci delle ASL. Qui la situazione mi sembra abbastanza critica per quello che dicono i cittadini e addirittura ci sono reparti che a una certa ora sono chiusi, non sanno a che rivolgersi, a questo problema può ad unirsi, quello della sanità privata con i problemi che ci sono stati per Villa Buon Respiro ad esempio. Ecco, come si potrebbe secondo lei con questi tagli rendere efficiente la sanità ospedaliera ovviamente nella realizzazione di strutture di territorio? Guardi, noi tutti i direttori generali sono stati tutti quanti concordi nella riunione che si è tenuta con il commissario Palumbo e al ministero, sono stati tutti concordi nel dire che i tagli così come prospettati in questa misura sono a nostro parere difficilmente, molto difficilmente sostenibili. Peraltro io ho trovato un'azienda sanitaria che ha fatto già un ottimo lavoro di riduzione della spesa per cui da un deficit storico che si aggirava sui 92 milioni di euro ha ridotto questo deficit a soli 6-7 milioni di euro quindi ha cancellato 86 milioni di euro di deficit io credo che sia un lavoro, è stato fatto prima del mio arrivo, un lavoro assolutamente grosso, rispettabile e limare ulteriormente credo che sia molto problematico senza incidere in modo significativo sulle prestazioni dei cittadini, però è anche vero che bisogna in situazioni di questo genere cambiare anche un pochino mentalità, cioè pensare anche nuove soluzioni organizzative io non so quanto resterò, quindi questi sono problemi di programmazione a medio-lungo termine insomma il mio mandato è un mandato a termine credo che magari chi mi succederà su questo posto dovrà pensare e inventare delle soluzioni organizzative che siano innovative e anche diverse dall'attuale sia nella riorganizzazione interna delle strutture ospedaliere sia nel potenziamento dei servizi territoriali a scarico delle strutture ospedaliere cioè il concetto fondamentale è anche quello che se riusciamo a servire il cittadino in modo efficiente al proprio domicilio e sul territorio riduciamo notevolmente la spesa possiamo utilizzare gli ospedali al meglio della loro potenzialità e nello stesso tempo facciamo l'interesse del cittadino stesso e di tutto il substrato sociale Villa Buon Respiro sappiamo cura disabili psichici ha dato un contributo molto importante nel tempo alla sanità del Biterbese eppure i dipendenti hanno rischiato come sappiamo il licenziamento la clinica ha rischiato la chiusura e di certo non si può dire che tutto è passato io quando sono arrivato qua ho trovato che la dirigenza di questa azienda sanitaria aveva già provveduto prima del mio arrivo a emanare un provvedimento di erogazione di risorse economiche a Villa Buon Respiro finalizzato a tutelare il pagamento e la corrisponzione dei monumenti pensieri ai dipendenti e non aggiungo altro spero di essere stato chiaro per quanto riguarda l'equilibrio tra pubblico e privato è un equilibrio che in un regime sano si contempera e si sostiene a vicenda l'importante è che ci sia un regime sano in cui il pubblico faccia il suo lavoro e faccia la sua parte il privato faccia il suo lavoro e faccia la sua parte ma ci sia un controllo attento della spesa, delle prestazioni, dell'erogazione dei fondi e del loro utilizzo Quali servizi secondo lei in ultimo servirebbero per rendere migliore la sanità di questo territorio se è riuscito a farsene un'idea? Oggi presentate lo screening mammografico che è un servizio sicuramente molto importante per la popolazione che sicuramente può aiutare chi è in difficoltà Sì, oggi presentiamo questo screening che peraltro io presenterò con poche parole perché lascerò il giusto compito di presentarlo a coloro che lo portano avanti da anni e queste sono iniziative di prevenzione che sicuramente vanno tutte quante potenziate tumori della mammella, tumori dei genitali femminili dell'utero, eccetera così come della prostata e del maschio la prevenzione è estremamente importante come vanno fatte altre opere di prevenzione per altre patologie e per quanto attiene invece il potenziamento dei servizi noi stiamo facendo una serie di incontri con i direttori di struttura e unitamente al direttore sanitario dell'azienda per vedere un po' qual è il panorama dei servizi offerti e per vedere anche nell'ambito degli attuali servizi offerti quali sono gli spazi per il potenziamento di alcuni mantenendo ovviamente tutta l'offerta esistente quindi non il potenziamento di alcuni a scapito potenziamento di alcuni per creare dei corridoi di eccellenza nell'ambito di questi servizi peraltro già esistenti in alcune specialità di questa azienda ringraziamo il commissario straordinario Antonio De Santis grazie